Mi chiamo Francesco e vivo a Pordenone. Sono comproprietario, assieme a mia moglie Stefania, di un'abitazione e di un garage concessi in affitto. Quali tasse sugli immobili devo pagare al comune? Per l'abitazione e per il garage affittati, lei deve pagare sia la Tasi che l'Imu. Quanto devo pagare di Tasi? Ha bisogno, prima di tutto, di conoscere il dettaglio delle sue proprietà. Deve perciò procurarsi la visura catastale. Può tenerla online collegandosi al sito dell'Agenzia delle entrate. Agenziaentrate.gov.it. Oppure può recarsi personalmente alla sede dell'Ufficio Provinciale del Territorio e chiederlo agli sportelli. A Pordenone gli uffici si trovano in via Borgo Sant'Antonio numero 23. La visura è gratuita. Se ha già una visura recente e non ci sono state variazioni successive, può utilizzare quella. Ecco il tipo di documento che le verrà rilasciato. I dati che deve prendere in considerazione sono la categoria dell'immobile e il valore della rendita catastale, su cui si basa il calcolo della Tasi e dell'Imu. Dato che la sua abitazione è concessa in affitto, la quota Tasi di sua competenza sarà pari al 90%, mentre il restante 10% sarà a carico del suo inquilino. Ora che mi sono procurato la visura e conosco i valori catastali, quale calcolo devo fare? Innanzitutto deve calcolare la base imponibile, su cui si basa il calcolo sia della Tasi che dell'Imu. La sua abitazione appartiene alla categoria A2 ed ha una rendita catastale di 1000 euro. Inoltre lei è proprietario di un garage che appartiene alla categoria C6 con una rendita catastale di 90 euro. Deve moltiplicare questi valori per il coefficiente di rivalutazione pari a 1,05. Si tratta di un valore definito dalla normativa nazionale. E poi moltiplicare per 160. Questo è il moltiplicatore da applicare alle abitazioni e dalle pertinenze. Per altri tipi di immobili, l'elenco completo dei moltiplicatori è disponibile nel sito del Comune. In tal modo otterrà la base imponibile, che nel suo caso è di 168.000 euro per l'abitazione e di 15.120 euro per il garage. Per calcolare la Tasi deve moltiplicare la base imponibile per l'1,25 per mille, che è l'aliquota stabilita dal Comune di Pordenone per il 2014, e determinare la quota di sua competenza, pari al 90% dell'imposta dovuta. Il totale così ottenuto è pari a complessivi 206,01 euro e rappresenta l'importo della Tasi dovuta per l'abitazione concessa in locazione e la sua pertinenza per l'intero anno 2014. A questo punto dovrà suddividere l'importo totale in due rate uguali arrotondate, l'acconto ed il saldo. Le ricordo che il rimanente 10% della tassa dovuta è a carico del suo inquilino, che dovrà provvedere in maniera autonoma. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione fosse inferiore o uguale ad 800 euro, l'inquilino, se residente, dovrà detrarre dall'importo ottenuto 25 euro. Quanto devo pagare di IMU? Per calcolare l'IMU invece, deve moltiplicare la base imponibile per 7,60 per mille, che è la liquota stabilita dal comune di Pordenone per l'anno 2014. Diversamente da quanto accade per la Tasi, per determinare la quota di IMU da versare deve tenere in considerazione la percentuale di possesso dell'immobile, che nel suo caso è pari al 50%. L'importo annuo sarà pari a 1.391,71 euro, di cui 695,86 euro a carico suo e altrettanti a carico di sua moglie. A questo punto dovrà suddividere l'importo a suo carico in due rate uguali arrotondate, l'acconto e il saldo. Quali sono le scadenze? Come si effettua il pagamento? Le scadenze sono le stesse sia per l'IMU che per la Tasi. L'acconto va pagato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. Può scegliere di pagare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Attenzione! Per quanto riguarda il pagamento della Tasi, nel caso in cui ci siano più con proprietari dello stesso immobile, solo uno di essi dovrà provvedere al versamento dell'intero importo dovuto. Diversamente, per determinare la quota di IMU da versare, ciascun proprietario deve pagare solo per la quota di possesso dell'immobile, che nel suo caso è pari al 50%. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, disponibile in posta o in banca, oppure tramite home banking. Ecco dunque come compilare il modello F24 per la Tasi. Dopo aver inserito i dati anagrafici nella sezione contribuente, compilare la sezione IMU e altri tributi locali, fornendo i dati richiesti. Codice ente G888 per il comune di Pordenone, indicare se si tratta di acconto o saldo. Il numero di immobili, nel nostro caso sono due, abitazione e garage, in quanto vengono considerate le unità iscritte in catasto. Il codice tributo 3961 per indicare Tasi altri fabbricati. L'anno di riferimento e l'importo a debito. Ed ora vediamo come compilare il modello F24 per l'IMU. Dopo aver inserito i dati anagrafici nella sezione contribuente, compilare la sezione IMU e altri tributi locali, fornendo i dati richiesti. Codice ente G888 per il comune di Pordenone, indicare se si tratta di acconto o saldo. Il numero di immobili, nel nostro caso sono due, abitazione e garage, in quanto vengono considerate le unità iscritte in catasto. Il codice tributo 3918 per indicare IMU altri fabbricati. L'anno di riferimento e l'importo a debito. Nel sito del comune di Pordenone, all'indirizzo comune.pordenone.it.tributi, trova tutte le informazioni dettagliate e uno strumento di calcolo in grado di produrre il modulo F24 compilato.